ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come grazia di michele nota esperta musicale è stata tra i primi professori del talent show amici di maria de filippi ha formato numerosi allievi cercando di trasmettere loro il suo sapere nel campo musicale del canto la cantante è entrata a far parte della trasmissione condotta da maria de filippi nel 2003 a pochi anni dall'esordio del programma su canale 5 in breve tempo divenne conosciutissima anche tra i più giovani che già seguivano e amavano il programma che si prefiggeva lo scopo di aiutare giovani cantanti ballerini e attori ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo e la presenza di grazia di michele nella scuola effettivamente ha aiutato tanti allievi a migliorare sia nel canto che nella conoscenza musicale alcuni di loro si sono oggi trasformati in attori di successo anche grazie alle lezioni di grazia appunto la professoressa però era nota anche per la sua severità e per il suo rigore all'interno della scuola infatti chiedeva ai suoi allievi disciplina e rispetto delle regole e non tollerava le mancanze di rispetto grazia di michele da amici al festival di sanremo grazia di michele è nata come cantante infatti nonostante il suo ruolo di insegnante all'interno della scuola di amici non ha mai abbandonato quella che è sempre stata una sua grande passione proprio per questo motivo grazia nel 2015 ha partecipato al festival di sanremo in coppia con mauro coruzzi con il brano io sono una finestra arrivando sino alla serata finale classificandosi al sedicesimo posto il brano precorrendo un po i tempi trattava di una tematica importante e attuale ovvero la lotta alla transfobia e per questo si aggiudicò il premio lunezia per il miglior testo dopo aver lasciato amici e sulla scia del successo ottenuto con la sua partecipazione al festival di sanremo grazia di michele ha scelto di allontanarsi dalla televisione e dedicarsi al teatro portando in scena lo spettacolo io non so mai chi sono ad oggi l'ex insegnante di amici ha deciso di continuare la sua carriera nel mondo della musica e oltre ad aver scritto diversi libri e tenere vari seminari e masterclass sul canto e sulla musica è docente presso la gdm accademia all'aquila inoltre ha pubblicato due singoli nel 2020 è uscito segnali universali mentre nel 2021 anime di vetro grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video